Musica Benvenuti al telegiornale di oggi, l'apertura la dedichiamo ad una notizia tragica, infatti si tratta di un incidente stradale che si è verificato sulla statale Gela Catania nei pressi del bivio Permineo in territorio di Palagonia. Vediamo le immagini per cause da accertare da parte della polizia stradale di Caltagirone. Due mezzi si sono scontrati frontalmente, c'è una vittima, si tratta di un libero professionista etneo di 60 anni. L'uomo era alla guida di una Mercedes che stava percorrendo la statale in direzione Gela. Lo scontro è avvenuto con un tir che proseguiva in direzione opposta. L'automobilista è morto sul colpo decapitato, sotto shock il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Ralentamenti si registrano in entrambi i sensi di marcia. Adesso ci dedichiamo alla tavica vicenda dell'insabbiamento del porto di Gela. Adesso il comitato si rivolge alla deputazione nazionale al fine di intervenire presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente per sollecitare la procedura di valutazione ed approvazione del piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio. Gli operatori portuali di Gela non ne possono più di vedere quel porto rifugio insabbiato. Tante le promesse ma la situazione non cambia. I soldi ci sono per procedere al recupero della struttura ma tutto è fermo. L'Eni lo scorso 27 settembre ha messo a disposizione 5 milioni e 600 mila euro prelevandoli dai fondi di compensazione destinati a Gela così come previsto nel protocollo siglato il 6 novembre del 2014 per la riconversione della raffineria ma dopo l'annuncio in Pompamagna rimane tutto paralizzato. Il pescaggio si è ridotto notevolmente, siamo al di sotto di un metro e il maltempo degli ultimi giorni ha peggiorato una situazione che oramai è ai limiti del grottesco. L'unica speranza è che non succeda nulla di serio a mare perché la situazione è davvero grave. I mezzi antincendio non possono più uscire dal porto e parte del portoisola è oramai interdetto. I mezzi antinquinamento, barcaioli e piloti partono dal porto di Licata. Insomma, una situazione insostenibile anche per i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare. In tutto questo si evidenzia la lentezza burocratica che non ha ancora dato il via libera ai lavori di dragaggio. Attualmente tutto giace al Ministero dell'Ambiente dove lo scorso 2 dicembre la protezione civile regionale ha inviato i documenti per ottenere il parere e la valutazione del piano di caratterizzazione e si è in attesa che l'apposita commissione ministeriale si riunisca per emettere il parere. Il comitato del porto del Golfo di Gela, preseduto da Massimo Livoti, si appella adesso alla deputazione nazionale. Gli esponenti del comitato hanno deciso di giocarsi la carta dell'intercessione della deputazione missena inviando la lettera agli onorevoli Azzurra Cancelleri, Daniela Cardinale e Alessandro Pagano per chiedere loro di intervenire presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente. Al fine di sollecitare la procedura di valutazione e approvazione del piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio di Gela. A Natale avevano invece inviato una lettera in maniera provocatoria a Santa Claus. Caro Babbo Natale, per quest'anno avevano scritto «Volevamo chiederti di aiutarci a concretizzare un nostro sogno, quello di avere un porto funzionale visto che la politica non riesce a risolvere i problemi. È considerato che la burocrazia li è grava con i suoi ritardi». I rappresentanti del comitato hanno chiesto in particolare a Babbo Natale che illumini l'illustre concittadino nonché presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta perché si impegni ancora di più al fine di concludere le procedure burocratiche volte all'avvio dei lavori nel porto di Gela. Il loro auspicio è che per la stagione estiva 2017 il nostro porto possa essere già nelle condizioni ottimali per la sua regolare funzionalità. Ma Natale è passato e Santa Claus non ha esaudito il desiderio. Quattro commercianti sono stati denunciati dai carabinieri del reparto territoriale di Gela per avere trasmesso in maniera illecita la gara di calcio di domenica scorsa a Fiorentina Juventus. In pay-per-view i militari hanno certato che quattro erano dotati di un abbonamento privato anziché di carattere commerciale, un metodo usuale per pagare di meno. Nello locale c'erano numerosi clienti intenti a consumare la cena o la pizza guardando il match in tv. Oltre alla segnalazione per i commercianti scatterà anche un verbale. Sarà inaugurato giovedì 19 gennaio alle 10 presso la casa circondariale di Contrada Barate a Gela lo spazio colloqui, stanza dedicata ai minori che incontrano il genitore recluso. L'iniziativa è del Soroptimist Club di Gela presieduto da Maria Grazia Falconeri. La stanza è stata ristrutturata ed abbellita in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria con fondi del Soroptimist Club di Gela e su un progetto diretto dalla socia, l'architetto Marilena Rampanti. L'ondata di maltempo annunciata qualche giorno addietro ha colpito nuovamente la Sicilia. Una perturbazione di origine artica in arrivo sull'Italia dal Mediterraneo occidentale che ha portato a un brusco calo delle temperature e neve anche sull'isola. Condizioni meteo destinate a perdurare buona parte della settimana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede allerta gialla per il rischio idrogeologico localizzato, oltre che sulla Calabria, Basilicata, parte della Puglia e dell'Umbria, anche nei settori settentrionali della Sicilia. Si tratta di un normale peggioramento di stampo infernale che non ha nulla a che vedere con l'ondata di freddo del weekend dell'Epifania, si legge sul sito del meteo Caltanissetta. Dopo il calo delle temperature nella notte tra venerdì e sabato per via d'eventi maestrali che hanno fatto acuire maggiormente la sensazione di freddo, domenica mattina e nel pomeriggio a Caltanissetta si è assistiti a brevi nevicate, così come a San Cataldo, a quote superiori a 600-650 metri. Nevicate anche a Mussomeli. Le piogge moderate hanno interessato il corso della giornata in città, così come nel resto della Sicilia centro-occidentale. Una bufera di neve invece domenica pomeriggio a piano battaglia ha bloccato una cinquantina di famiglie. È stato necessario l'intervento della protezione civile provinciale del soccorso alpino e della forestale. Alcune macchine sono rimaste intrappolate nella neve e altre, senza catene, hanno bloccato la strada che porta a valle. Un'auto è finita contro un mezzo spalaneve, rimanento incastrata. Disaggi per la neve anche nelle Madonie e nell'Ennese. Per via delle temperature rigide a Catania è stata realizzata una tendopoli per ospitare senza tetto. Analogo tempo di domenica, quello previsto per la giornata odierna, con un miglioramento in serata, così come previsto da meteo-caltanissetta. Pioggia mista a neve anche nella giornata di martedì. Le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva. La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati, subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela. Per scaricare l'avviso ed il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E su indicazione del sindaco di Gela, Domenico Messinese, il segretario generale del comune, Pietro Amonosia, ha inviato una direttiva di servizio ai vari settori. Da questa settimana sono incrementati infatti gli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali. I front office seguono la fascia oraria di urna che va dalle 8.30 alle 13.00. Finora l'orario osservato terminava alle 11.30. Confermati invece gli orari pomeridiani che viggono ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. E adesso parliamo del calendario. La Sicilia che ricicla, presentato ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'ufficio speciale della raccolta differenziata a Catania. Per i comuni inseriti nel calendario erano presenti il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e l'assessore comunale all'ambiente, Simone Siciliano. Vediamo. La Sicilia che ricicla si tratta del calendario presentato ieri pomeriggio nella sala conferenze dell'ufficio speciale della raccolta differenziata a Catania. Il progetto editoriale, che raggruppa i comuni virtuosi in tema di conferimento dei rifiuti per tipologia, è stato promosso da Ecoface in collaborazione con Legambiente, Ecorepla e Regione Siciliana. Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore di Legambiente Sicilia, Claudio Acasa, l'amministratore di Ecoface, Gero Larocca, il direttore per l'ufficio speciale per la raccolta differenziata della regione, Salvatore Cocina, e Massimo Di Molfetta, responsabile dei rapporti con il territorio del Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi in plastica. Per i comuni inseriti nel calendario erano presenti il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e l'assessore comunale all'ambiente, Simone Siciliano. L'impegno messo dai miei concittadini, dagli abitanti di Gela, venga riconosciuto e viene riconosciuto da Legambiente, con un lavoro importante dove vengono inserite in questo calendario le 12 città che si sono più distinte per la raccolta differenziata. Il lavoro svolto in quest'anno per cercare di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e quindi le percentuali di raccolta differenziata e la qualità di raccolta differenziata hanno dato i risultati che speravamo. La soglia prevista per legge è il 65%, siamo vicini perché oscilliamo intorno al 50%, è chiaro che non basta a questo punto fare soltanto comunicazione, così come è stata fatta in maniera molto diffusa negli ultimi mesi, intensificheremo i controlli e cercheremo di fare in modo che ci siano delle agevolazioni per rendere più agevole e più interessante fare la raccolta differenziata. Il calendario sostanzialmente riprende 12 realtà siciliane, alcune in cui la raccolta differenziata è già abbastanza avanti, altre che stanno partendo adesso, altre che hanno bisogno anche di una spinta, ma tutte sono delle località molto belle e siccome tutto il territorio siciliano è bello, merita il rispetto, merita di essere rispettato appunto attraverso l'adozione di questa buona pratica. Gela tra le grandi città siciliane è probabilmente quella che ha raggiunto risultati di maggiore prestigio. Ovviamente Gela sappiamo benissimo che un territorio urbano così grande rappresenta problematiche complesse e anche per questo dobbiamo ritenerci soddisfatti per il risultato che sta sfiorando il 50% e quindi va fatto un plauso a tutti i gelesi per questo traguardo che porterà sicuramente grandi benefici alla comunità. Gela con il suo 50% di raccolta differenziata ottenuto negli ultimi mesi dopo l'introduzione del cosiddetto servizio spinto porta a porta rappresenta una delle macro-municipalità del mezzogiorno più vicine alla soglia del 65% imposto per il 2020. A Gela nel calendario è dedicato il mese di agosto con l'immagine delle mura timoleontee, protagoniste della foto realizzata da Maria Rita Cavallo sono le ginnaste dell'Acrobatic Group di Marco Cuvato, consulio Lisciandra, docente all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga e studenti, tutti diretti dalla regista Stefano Rizzo. È previsto per giovedì 19 gennaio alle 13 il pranzo in occasione degli esami di qualifica che si terrà presso l'Istituto Alberghiero di Gela in via list diretto da Grazio di Bartolo. Sempre giovedì 19 gennaio dalle 17 alle 19 e sabato 21 dalle 9.30 alle 13 è previsto l'open day nei locali del liceo scientifico, linguistico e delle scienze applicate Elio Vittorini preseduto da Angela Tuccio. Venerdì 20 invece alle 11 si terrà nei locali del quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela retto da Cetta Mongelli l'iniziativa Parents and Teachers Incontriamoci per conoscerci. Sarà l'occasione per presentare il piano dell'offerta formativa. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana 23. C'è anche un numero telefonico 0933 938312. Sarà incoronata ed esposta alla pubblica venerazione nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Si tratta dell'icona della Vergine Maria Madre della Misericordia voluta dai poveri ed ai volontari della piccola casa della Misericordia di Gela come omaggio alla Vergine Maria per il dono dell'anno giubilare della Misericordia. L'icona rappresenta la Vergine Maria che mostra Gesù, Misericordia del Padre ed il grembiule segno identificativo del servizio del Cristo e di Misericordia verso il prossimo. L'immagine sacra dal 13 novembre scorso a conclusione del Giubileo della Misericordia è venerata sull'altare principale della Chiesa di Sant'Agostino in Piazza Salandra nel centro di spiritualità nazionale della Misericordia. Un centinaio di gelesi, compresi alcuni poveri e volontari della casa, il prossimo mercoledì 1 febbraio raggiungeranno Roma per partecipare all'udienza di Papa Francesco e alla celebrazione eucaristica nella Basilica Vaticana dove si terrà il rito dell'incoronazione della Sacra Icona preseduta dal Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per lo Stato della Città del Vaticano e arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Il giorno dopo è prevista la festa della presentazione del Signore. Il Santo Padre in quell'occasione presiderà la solenne celebrazione eucaristica alla presenza della Sacra Icona. Domenica 5 febbraio alle 17.30 la Sacra Icona arriverà a Gela e verrà accolta nella chiesa di San Francesco di Paola. Subito dopo è prevista la processione. La celebrazione eucaristica di ringraziamento sarà preseduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Appuntamento nella chiesa di Sant'Agostino dove l'icona sarà ricollocata al suo posto. Sono aperte le iscrizioni al primo corso sub ex-rec dell'anno 2017 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato entro questo mese e si svolgerà presso la sede della Confo Commercio Ascomo Gela in via Cicerone 104. Tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il 23 gennaio. presso la segreteria della Confo Commercio Ascomo Gela dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C'è anche un recapito telefonico 0933 939718. È prevista per venerdì 20 gennaio alle 17 nella sala conferenze dell'eliceo scientifico Elio Vittorini di Gela la presentazione del libro di Sebastiano Tusa, Primo Mediterraneo. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'Istituto Scolastico diretto da Angela Tuccio. Dialogherà con l'autore Lella Oresti. Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. È previsto l'intervento del pittore Giovanni Iudice. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Eccoci in seconda parte del telegiornale. Continuano gli appuntamenti inseriti nell'83esima stagione concertistica geolese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 22 gennaio alle 19. Nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Vignatelli Doviano si terrà il concerto lirico del trio Giovanna Nuara, soprano, Giuseppe Infantino, tenore e Salvatore Gaglio al pianoforte. Sono tornati il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, da Montefortino, un comune colpito dal sisma in provincia di Fermo, Valeria Della Iera, di 43 anni, e Cristian Venu, di 18. I due volontari, inviati dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, infatti, sono arrivati nelle mar che hanno dato il loro contributo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Un'esperienza molto forte che gli ha fatto vedere da vicino le difficoltà, paure, sofferenze di chi ha vissuto il terremoto e a causa delle scosse ha perso tutto. In realtà sono emozioni forti perché è gente che nel giro di 15 secondi ha perso tutto, c'è chi ha perso il diretto della famiglia. È gente che non avendo più un tetto è completamente distrutta a livello interno, quindi è gente che troppo sta male e che spesso vede nella Croce Rossa e tutto il suo corritorio, comunque tutte le associazioni che sono presenti in queste zone, è una figura di grande aiuto e stanno riconoscendo in questo. Sono persone che hanno bisogno di aiuto costante, anche un abbraccio, un sorriso, scambiare due parole a loro li aiuta molto perché è gente che è rimasta sola. Poi hanno gente che ha avuto anche morti, ferite anche a livello del paese, della famiglia dove sono. Quindi è stata un'emozione forte e siamo contenti di aver potuto partecipare, di aver lasciato un segno anche noi in queste situazioni di emergenza dove partecipare sicuramente ti rende orgoglioso, ti rende fiero. Essere un volontario significa essere primi a essere umili con tutti e soprattutto io penso che quando succede una situazione del genere che possa essere nel nostro paese, che possa essere nel mondo, non si può restare fermi perché è una situazione che coinvolge tutti. L'esperienza è stata forte, sentita più che altro. È stata un'esperienza positiva per noi che ci sta facendo capire la realtà. È diversa vederla in tv che essere là, trovarci là è tutto diverso. Le esigenze sono tante perché persone che avevano tutto e si ritrovano a niente, non avere niente. Quello che abbiamo constatato è che a livello di vivere non manca niente perché c'è un aiuto costante per loro. Stanno bene, però psicologicamente non ci sono. Purtroppo ci sono tantissimi disagi. Ora ci ritroviamo là con la neve, meno 18, il freddo si fa sentire. Loro sperano tanto di trovare una sistemazione più presto possibile. La giovane atleta giulese Mara Guelli della Gymnastics Club diretta da Walter Micichè è entrata a far parte della squadra nazionale di cheerleading. Dopo la selezione dello scorso dicembre a Palermo sono state individuate 30 atleti in tutta Italia e tra queste c'è Mara Guelli, allenata da Simona Scerra. Si tratta, ha detto Walter Micichè, di una vittoria condivisa che abbraccia e coinvolge tutti i genitori, il team della Gymnastics Club, compagni di squadra e tutta la città perché bisogna essere orgogliosi di avere una concittadina che veste la maglia azzurra. Mara Guelli parteciperà il prossimo luglio dal 21 al 28 ad una gara internazionale in Cina. Quarto memorial di calcio dedicato a Pino Morinello si trarrà lunedì 23 gennaio alle 17.30 al campo sportivo Vincenzo Presti di Gela. L'iniziativa è patrocinata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Santa Lucia Soccorso e con il gruppo Vecchie Glorie. L'ingresso sarà gratuito. La pagina del cinema all'antidoto di Macchitella a Gela, oggi alle 19.30 e alle 21.30, sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2. e sabato 21 gennaio al Teatro Comunale Eschilo di Gela Enrico Guarneri porterà in scena l'Avaro di Molière per la regia di Antonello Capodici. Appuntamento alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per quelli del turno A. I biglietti hanno un costo di 12 euro. Per informazioni, lo ricordiamo, il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Anche in questo caso ci sono due recapiti telefonici 0933 91 18 92 e 345 58 80 580. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.